Salve, mi chiamo Arturo Lavalle e sono il responsabile dell'area ricerca e sviluppo dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, un Ateneo leader in Italia e in Europa per quanto riguarda il processo di modernizzazione dell'istruzione superiore attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Una delle caratteristiche principali dell'Università Marconi è la sua spiccata vocazione internazionale ed è in quest'ottica che si inserisce l'attivazione del nuovo master in gestione dell'industria petrolifera, petrolchimica e del gas naturale. Il programma, che dura 18 mesi e verrà erogato in collaborazione con un virtual Bolivia, ha lo scopo di fornire competenze elevate per quanto riguarda l'ingegneria e le tecniche amministrative, finanziarie e gestionali che interessano tutta la catena del valore del settore idrocarburi. Si aspira a diventare un responsabile amministrativo finanziario, un project manager o anche un direttore generale in questo campo, questo è il master che ti fornerà gli strumenti necessari per la tua crescita professionale e personale. Immesti nel tuo futuro, iscriviti al nostro master ed entrerai così a far parte di una comunità di esperti e di professionisti a livello globale.